Ciao! Stiamo andando a lavare la macchina perché dentro casa io stavo impazzendo per la fame e pensavo al cibo e niente, stiamo andando a lavare la macchina. Passiamo almeno una mezz'oretta, la passiamo così rio a mezzogiorno Mi sono fatta al bagno Ok, il fuori è lavato Adesso aspiriamo il dentro Mamma mia, così Vabbè, un secondo l'ho fatto, non se abbiamo un giro, cioè mi fa male la schiena, sta piegata, quindi che sta a pezzo a lui Io sto qui e mi sento a disagio perché non riesco a fare niente Se volessi ci riesco, però poi la schiena ne risente E vabbè, sto qua, così Supervisiono Mamma mia, quanto mi sento a disagio quando io non riesco a fare niente, cioè Mi verrebbe mal di schiena, suderei Non riesco a fare niente Questo qua Eccomi, non riesco a appoggiare il telefono Ciao Io posso Ma poi sarei tutto il giorno a letto per il mal di schiena Sarei tutta sudata fracica In un modo insolente E quindi sto così Che poi veramente Sto soffrendo già soltanto a sedi in piedi Di ritorno a casa Ok, torniamo a casa E ci vediamo dopo per il pranzo Ciao